Mi presento brevemente, io sono Emilia Ciardi, sono una software engineer, più recentemente mi sono specializzata un po' nell'ambito delle mobile apps e dello UX design per mobile application. Attualmente lavoro per IGT come consulenze su UX design di mobile applications e come Sparkling Labs sono parte del team di questa giovane startup che si occupa di realizzazione di applicazioni mobile e di gaming qui in Ticino. Noi oggi parliamo di dark pattern e in effetti di come studiarli possa essere interessante per migliorare il nostro design. Partiamo un po' dalla definizione. Un dark pattern è un tipo di interfaccia utente che sembra essere stato attrettamente studiato per ingannare gli utenti e fargli fare qualcosa che non è nei loro interessi e comunque magari talvolta può essere addirittura a loro spese. Questa definizione c'è dovuta da Harry Brignall che è un UX designer, il primo che ha coniato questa espressione e che li ha un pochino categorizzati. Ora la cosa interessante di questa definizione è proprio fermarci sul discorso che siano stati attentamente studiati per andare in questa direzione. Infatti per capire concretamente cosa sia un dark pattern dobbiamo un pochino metterlo a confronto con un antipattern per capire quali sono le peculiarità vere di un dark pattern. Alla fine un antipattern è un qualche cosa che è stato mal progettato, quindi è un errore diciamo dello UX design. Ora qual è quindi la differenza tra antipattern e dark pattern? Innanzitutto un antipattern in effetti non funziona. Il dark pattern invece funziona, però funziona a modo suo, in una sua maniera peculiare. Un antipattern quindi è controproducente, mentre il dark pattern è produttivo, però soltanto per uno dei due parti della nostra UX, quindi non per l'utente magari. L'antipattern quindi è puro pacifico bad design, cioè qualcosa che non è stata ben fatta, mentre il dark pattern in realtà è qualcosa che diciamo si infila per sfruttare delle debolezze umane. L'antipattern è poveramente eseguito, spesso, mentre invece il dark pattern appunto qui interviene quel discorso di averlo attentamente realizzato per andare in una certa direzione. L'antipattern inoltre ha una bella caratteristica, una caratteristica comoda, che è quello che si identifica facilmente con le metriche. Cioè nel momento in cui noi misuriamo le performance della nostra UX con la nostra mobile app, per esempio, possiamo facilmente vedere dov'è che magari l'utente fa un drop off o dove l'utente smette in effetti di seguire il nostro flusso, il journey della nostra applicazione. Sappiamo quindi di identificarlo efficacemente l'antipattern. Viceversa il dark pattern talvolta è difficile da identificare proprio, richiede un umano che si metta proprio a comprendere cosa sta andando, cosa sta succedendo. E questo perché talvolta le metriche addirittura gli danno ragione, cioè in effetti talvolta, anzi appositamente, i dark pattern talvolta nascono proprio per fare un boost di determinate dinamiche, di determinate metriche, cioè farle funzionare meglio, anche se proditoriamente. L'antipattern comunque non è mai intenzionale, nel senso che è un puro errore e scappa dalle maglie del QA sostanzialmente, mentre invece il dark pattern, diciamo, sì, può essere intenzionale e talvolta può essere non proprio intenzionale, cioè qualcosa che comunque la company non si è resa ben conto di averlo messo in piedi, di averlo creato. Con questo tipo di notizie su un dark pattern chiediamoci anche dov'è che nasce. Nasce un pochino come figlio deteriore del persuasive design, potremmo dire. Sappiamo che c'è la tendenza, da parecchi anni a questa parte, di andare nella direzione del persuasive design, ovvero di sfruttare un pochino tutta una serie di meccanismi psicologici per fare persuasione, portare gli utenti un po' a creare delle cose che noi desideriamo. Poi c'è questa frase che è un po' pericolosa al suo cuore, dal punto di vista del business, come progettisti, il nostro scopo, il nostro lavoro è quello di obbligare le persone a fare quello che noi vogliamo che facciano. Ora, questa frase che è presa da un libro famoso, Designing the Obvious, di un altrettanto famoso designer, un pochino, se la leggiamo bene, ci può anche far spaventare, quantomeno come utenti, perché è una frase un po' forte, diciamo c'ha un contenuto etico al cuore un pochino discutibile, in un certo senso, ed è un po' da estremizzazioni di questo tipo di concetto, di questo tipo di policy, diciamo, etica, che nascono i dark pattern talvolta. Diciamo che noi nel tempo ci siamo anche un po' abituati a delle aree grigie, laddove i pattern magari non sono proprio dark, ma sono un po' grey, perché ora per esempio se prendiamo questa schermata, noi siamo totalmente abituati ad un discorso del genere, dove vediamo dei prezzi mensili, però per una sottoscrizione che di fatto obbligatoriamente è annuale. Quindi il prezzo che noi vediamo mensile, in effetti è un pochino per persuaderci a fare questo passo, ma non è il prezzo reale che noi andremo mai a pagare, perché il prezzo reale sarà comunque, anche se lo paghiamo mensilmente, sarà quello annuale. Noi ci siamo abituati a queste cose, è un pochino come andare allo store locale e trovare i prezzi che finiscono con i famosi 99 centesimi. Sappiamo benissimo che alla fine è un piccolo trucchetto per farci amare un po' di più quel prezzo, però sono meccanismi di questo genere. Ora, proprio questa abitudine da dove discende? Diciamo che la scienza ci dice che noi alla fine un pochino ce l'abbiamo nel cuore, nella nostra natura, la bugia, il trucchetto, anche la piccola white lie potremmo dire. Diciamo che dagli studi si è visto che già all'età di 4 anni il 90% dei bambini sa già come mentire, quindi questa la dice un po' lunga su di noi, non so perché ogni tanto salta. Il 60% delle persone inoltre non può andare avanti a parlare per 10 minuti senza dire qualche bugia, quindi attenzione perché gli speaker oggi parleranno in media 50 minuti ognuno, quindi il 90% delle persone che cerca di crearsi una possibilità di fare dating online mentre nel profilo, questo è anche una statistica diciamo importante da sapere, e inoltre diciamo che come esseri umani ogni giorno più o meno subiamo circa 200 bugie. Dicendo questo quasi potremmo dire che i dark pattern ci stanno, va, perché via, siamo abituati, siamo dei mentitori, i trucchetti fanno parte della nostra natura, la scienza ce lo conferma, ok, tutto a posto. Diciamo che anche Apple, che dovrebbe essere molto brava poi in ambito mobile dove noi andiamo a guardare, non è proprio pura e casta, diciamo, da questo punto di vista. Qui vediamo come in effetti abbia cercato, questo era iOS 6, quindi un po' di tempo fa, di rendere un po' nascosto e anche fuorviante il fatto di localizzare questo setting che riguarda l'ad tracking. Cioè io come utente non voglio essere tracciato quando mi vengono somministrati degli ad. Cosa devo fare quindi per disabilitarlo? Intanto devo attraversare tutto questo path che è assolutamente assurdo perché ci sta già un'impostazione di privacy, invece devo andare a cercare in general, about, che sembrano non avere niente a che fare. Però diciamo che mi infilo lungo tutto questo path, alla fine arriva quell'impostazione che resta stessa elaborata in una maniera un po' sporchina, un po' confusionaria, perché io mi aspetto che se è spento, in sostanza non mi stai facendo tracking, non stai facendo il tracking dei miei ad, invece è elaborato in logica negativa. Cioè l'impostazione quando è off in effetti non sta limitando l'ad tracking, quindi io in effetti lo devo vedere acceso, però se sono sufficientemente distratto lo vedo spento di qua a posto. Quindi è un dark pattern in questo senso, cerca di fartela un po' ad occhio ad occhio, facendoti credere che l'hai disabilitato ed è tutto a posto. Ora, oggi potremmo dire, vabbè, l'avranno emendato sicuramente. Beh, diciamo che hanno sistemato il discorso del path, quindi ci si arriva in una maniera più naturale dalle impostazioni di privacy, però diciamo che l'impostazione espressa in modo contraddittorio, in modo in logica negativa, è rimasta. Quindi quella lì è rimasta, non se ne sono liberati. Ma vediamo un po' di esempi dal mondo reale per capire quanto i dark pattern possano essere realmente dannosi per l'utente. Questo pattern qui è un pattern conosciuto sotto il nome di Forced Continuity. Questa company che fa assicurazione ti promette un trial free di 30 giorni e te lo dà effettivamente, però durante tutto il processo in cui fai l'enrollment per questa cosa non ti dice, non te lo dice proprio, che si rinnoverà automaticamente alla fine dei 30 giorni. Noi oggi ci siamo abituati, parecchi fanno così, però ce lo dicono e ce lo dicono in maniera chiara. Invece questa azienda, quando ha iniziato a fare questa cosa nel 2010, non lo diceva nemmeno. E alla fine tu ti trovavi, in pratica, con una Forced Continuity involontaria. Questa cosa qua, ragazzi, beh, come dire, è proprio dark. Cioè non si può negare che sia una cosa sporca che queste personcine stavano facendo. Poi l'hanno dovuta togliere di mezzo, poi lo vedremo. Ora vediamo un altro pattern che veramente ci fa rendere conto come le cose possano mettersi male. Sneaking to cart significa che io vado a comprare una cosa e il negozio mi mette nel carrello tutta un'altra agganciata solo a base di suoi criteri, suoi policy. Ma me lo mette nel carrello, non è che me lo consiglia. Per cui se io faccio checkout, di fatto sto pagando per una cosa in più. Questi qui, per esempio, cosa facevano? Se andavi a comprarti un tablet e poi ti mettevano automaticamente anche il case. Il case così, nel carrello. Quindi un po' distratto, tac, e andavi a fare checkout di due oggetti piuttosto che uno. Questo è particolarmente brutto perché magari in caso di persone relativamente ignoranti potevano pensare che il deal fosse anche automatico. Cioè che magari i due prodotti vanno in bandole e li devi per forza comprare così. Invece non è vero. Quindi pensate quanto è cattiva questa cosa. Forse anche più cattiva di quella che abbiamo visto prima. Ma le cose non sono sempre così, diciamo, black and white. Ci sono anche altre cose. Comunque in questo caso qui ce ne rendiamo benissimo conto che la cosa è cattiva perché immaginate un pochino se succedesse nel mondo reale. Potreste uccidere qualcuno. In pratica immaginate di passare col vostro carrello e il manager del supermercato vi mette la marmellata bio nel carrello perché avete preso il pane. Poi magari lo scoprite e lui vi spiega che l'ha fatto per voi. È un consiglio ottimo, come il case, no? Per non graffiare il proprio preziosissimo tablet. Perché hai preso il pane, tac, ci vuole la marmellata. Bene. Questo qui, abbiamo detto, è un pattern estremamente negativo. Fare l'esercizio di trasportare i pattern nel mondo reale talvolta aiuta proprio a rendersi conto di quanto sono brutti. Ora, vediamo un caso meno, diciamo, un po' più grigio. Ecco, in questo caso qui si tratta di un'azienda, la Oxfam, che in effetti raccoglie comunque offerte per, diciamo, per la carità. Quindi, quello che fa però è avere questa forma nella quale ti chiede questo contributo che ha una sorta di smart default. Cioè, ovvero, di default andrà ad apprendere questi soldi in maniera continuativa dal tuo conto, in sostanza. Mentre invece puoi, chiaramente, spuntare l'altro radio button e dire, no, vabbè, è una tantum questa donazione. Ora, perché dire che in questo caso è grigio? Beh, perché innanzitutto la cosa è molto semplice. Nel senso che lo guardi, ce l'hai davanti tutte e due le opzioni, diciamo che non è molto nascosto. Quanto meno c'è la possibilità di reagire, di guardare e di reagire. E poi, diciamo, poiché alla fine si tratta di uno scopo umanitario, diciamo che possiamo essere lievemente più tolleranti rispetto a questo tipo di cosa. Non era comunque un deal d'affari, non stavo comprando il tablet, comunque stavo facendo un'offerta. Diciamo che in questo caso è greish, diciamo, un po' come Lando Carlissia, non si capisce bene se è cattivo o è buono, però diciamo che sguazza in un'area un po' grigia. Ora, ci potremmo chiedere, ma perché lo fa? È una cosa efficace? Beh, se guardiamo le statistiche, diciamo, di comportamento sulla donazione degli organi, dobbiamo concludere che è una cosa molto efficace. Qui stiamo guardando, in verde ci sono tutti i paesi, stiamo parlando dell'Europa, dove in pratica il consenso è automatico. Cioè tu, come utente, come cittadino, devi attivarti per andare a negare il consenso alla donazione dei tuoi organi. Mentre invece, i paesi in grigio, tu devi esplicitamente firmare qualcosa per aderire al discorso della donazione degli organi. Vedete che praticamente è fallimentare fare in questo modo. Nessuno evidentemente si attiva per dire, ok, io in caso, insomma, donerei i miei organi. Ma invece, se si tratta di dover negare il consenso, altrettanto nessuno si muove. E quindi, lo smart default, diciamo, in questo caso si è provato davvero smart. Diciamo che questa pratica ha funzionato. È un po' l'equivalente di quello che fa Oxfam, no? Visto su grandi numeri e per la donazione degli organi. Quindi, alla fine dovremmo chiederci, ma allora lo dovremmo abbracciare, questo dark side, tutto sommato? Potrebbe convenire? Beh, diciamo che comunque va fatto con grano salis, si dovrebbe dire, perché ci sono delle conseguenze. Ci possono essere delle gravi conseguenze. La prima è quella di avere un busy call center. Noi applichiamo delle polisi un po' discutibili e dopo ci troviamo con i costi di customer care che schizzano all'impazzata, perché tutti staranno a chiamare i nostri call center per togliere quell'impostazione che è stata fatta senza capire, senza vedere e così via. E questa è stata una cosa che spesso ha costretto, diciamo, dei bad doers, potremmo dire, a ritornare indietro sui propri passi, perché poi i costi di call center o di customer care in pratica gli rendevano del tutto ininfluenti magari i marginali guadagni che avevano fatto. Inoltre c'è il problema enorme, chiaramente, del public shaming, perché viviamo in un mondo di social media oramai e non è possibile nascondersi quando si fanno determinate cose in maniera efficace. E d'altra parte, nell'ambito mobile, le cose stanno ancora peggio, perché comunque c'è una meccanica delle review che dà agli utenti uno sfogo diretto per la propria insoddisfazione o per il fatto di essere stati maltrattati dalla nostra applicazione. Quindi, attenzione, non è che si può fare con leggerezza. Ed inoltre, al di là di tutto questo, è importante sottolineare che non bisogna, cioè che la conseguenza più grave può essere quella di, diciamo, privilegiare un vantaggio di breve termine ma poi ritrovarsi con dei danni di immagine di lungo termine, difficili veramente da recuperare. Insomma, sappiamo tutti che fine ha fatto questa stazione spaziale che non nominerò. Quindi, alla fine, per esempio, che cosa è successo al famoso credit expert che abbiamo visto prima? Intanto, nel periodo in cui ha utilizzato quella pratica, bastava cercare su Google il nome di credit expert per trovare queste associazioni, credit expert scam e così via. Cioè, avevano comunque una reputazione rovinata, quindi sicuramente il public shaming c'è stato nel loro caso. Ma poi come se la sono cavata? Hanno avuto i loro long term damages in questo caso? Beh, io vi posso dire che credit expert oggi è comunque fiorente, sta ancora lì, ha fatto un totale ributto di UX, experience e così via, ed è lì, è fiorente. Quindi, diciamo che ci sono delle aziende che vivono un pochino, come dire, agendo sul bilancio short term, long term. E quindi sperimentano diverse cose finché non hanno raggiunto un certo equilibrio. Ora, diciamo quindi, ma perché i brand, a fronte di questo tipo di conseguenze, dovrebbero diventare, diciamo, geni del male e applicare queste tattiche, se abbiamo visto che ci sono delle conseguenze così gravi e inopportune. Intanto ci sono degli elementi dell'ambiente lavorativo che possono favorire, anche involontariamente, la nascita di un dark pattern, l'adozione involontaria, quindi, di un dark pattern. Intanto, quando ci sono, diciamo, degli ambienti lavorativi dove c'è una forte pressione ed una forte enfasi sulle metriche, quando si guarda troppo crudamente alla metrica che sale e che scende, alle volte si possono applicare, magari nei bitesting, delle soluzioni che sono un pochino tirate per i capelli, un pochino poco, magari, ortodosse, funzionano bene all'atto pratico, almeno sui numeri spiccioli che possiamo raccogliere con le metriche, e quindi passano. Però, alla fine, poi, magari ci accorgiamo che non erano buone, cioè che erano dei dark pattern. Inoltre, c'è un discorso di social proof. Se noi vediamo un'azienda che applica un certo tipo di dinamica, come nascondere un certo tipo di prezzo annuale per favorire quello mensile, insomma, fare giochetti di questo genere, ci sentiamo legittimati, anche noi, ad andare su quella strada. Quindi, è un po' una social proof, diciamo, ok, lo fanno altri, lo posso fare anch'io. Ed, infine, c'è anche il discorso che la cosa difficile che dicevamo inizialmente, non sono automaticamente, come dire, rilevabili all'interno delle nostre interfacce, questi dark pattern, per cui c'è bisogno di un attentissimo lavoro di QA umano, perché purtroppo non può essere altrimenti rilevato un dark pattern. Ora, perché quindi ci mettiamo a parlarne di questi dark pattern? Innanzitutto si potrebbe dire che come utenti ci interessa essere preparati, anche, diciamo, non subirlo, il dark pattern, e quindi informarci non va male. Però, anche e soprattutto, a me in questa sede interessa dire che i dark pattern sono un mezzo che ci consente di imparare qualcosa in più del buon design, e quindi magari possiamo prendere degli elementi e capire come sfruttarli all'interno delle nostre applicazioni. Ora, l'ambito dei dark pattern è comunque molto variegato. Adesso, insieme, abbiamo visto già prima un esempio di sneak into cart, abbiamo visto un esempio di forced continuity, sono stati mappati, hanno un'ampia casistica. Ora, però, noi ci concentreremo esplicitamente su quelli mobile, che sono particolarmente difficili da beccare, in un certo senso, perché l'ambiente mobile è un pochino più impervio al dark pattern, per sue ragioni intrinseche. Innanzitutto c'è un discorso di approvazione da parte degli store, quindi determinate cose, diciamo, vengono anche filtrate un po' a monte dal meccanismo di review degli store. Poi c'è il discorso, invece, delle review utenti, che rendono praticamente difficile per un'applicazione, diciamo, cavarsela, se sta facendo qualcosa di male. Ed inoltre c'è lo spauracchio più grave, c'è il discorso della disinstallazione. Nel momento in cui un'applicazione, per me, nociva, o mi ha fatto qualcosa che non va, alla fine io la disinstallerò. Quindi questo ci potrebbe portare a dire, quindi non ci sono, non si evincono i dark pattern in ambito mobile, in realtà ci sono, soltanto che sono un po' più peculiari, un po' più nascosti, ed inoltre scompaiono subito, cioè hanno un rapido turnover, potremmo dire, nel senso che l'applicazione li prova, li rolla, potremmo dire, fuori, vede se vanno, magari non vanno, e li ritira indietro. E su questo ci ritorneremo, perché c'ha delle meccaniche interessanti anche questo. Vediamo un primo pattern che è tipicamente mobile, è quello dell'incubo delle notifiche. L'incubo delle notifiche, magari ognuno ha il suo Freddy Krugler personale, un'applicazione che lo bombarda, diciamo, di notifiche, però ecco, è importante non confondere l'antipattern con il dark pattern. Alcune applicazioni magari esagerano, no? E ci danno tante notifiche e scadono nell'antipattern. Ma in alcuni casi si tratta proprio di dark pattern. Io mi riferisco soprattutto a quelle applicazioni che danno messaggi che non sono nemmeno rilevanti per quello che è stato lo scopo che mi ha fatto scaricare l'applicazione. Ci sono giochi, ad esempio, che sfruttano il canale delle notifiche per notificare all'utente il prossimo gioco in uscita della stessa casa, della stessa company, dello stesso developer. Quindi lo scopo pubblicitario. Ma il patto della notifica è che tu mi devi dare un valore. E quindi, diciamo che questo scade nel dark pattern. Io sto andando a crearmi un canale di marketing, quindi ad avere un valore da questa cosa, però sfruttando dei premessi che l'utente non mi ha dato, sostanzialmente. Per mantenersi nell'ambito dei virtuosi sulle notifiche, ma comunque cercare di guadagnare un pochino di platea anche su questo tipo di cose, l'ideale sarebbe comunque lasciare il controllo all'utente. Quindi magari adottare uno smart default più o meno aggressivo come ce la sentiamo, diciamo, però avere poi magari dei settaggi granulari che consentono all'utente eventualmente di disabilitare magari la notifica di tipo marketing, ecco, o la notifica che è più prodomo nostro, potremmo dire. Quindi adottare, diciamo, delle meccaniche che consentono all'utente di salvaguardarsi da tutto questo. C'è poi un altro pattern che ho coniato questo termine, permission machine gun. Cioè praticamente, anche di questo avrete sicuramente avuto esperienza. Partite con un'applicazione, al primo lancio, dopo l'installazione, avrete una raffica di richiesta di permessi. E location services, e notifiche, e camera, e quanti più se ne vuole, insomma. Ora, questa cosa qui, anche questa, può essere un semplice antipattern. Cioè ci vengono richiesti tutti questi permessi, magari troppi, magari anche inutili in questo momento, ma magari è soltanto bad design. In alcuni casi, però, invece, si sfrutta proprio questo effetto di chiedergli tutti quanti a raffica per far andare l'utente in modalità autopilota. Cioè, praticamente, io sono bombardato da questa raffica di richieste di permessi, ad un certo punto smetto anche di leggerli, e ti do sì, in maniera automatica. E quindi io riesco così a prendere più permessi di quelli che mi sarebbero dovuti. Magari anche uno dei peggiori è l'accesso all'address book, per chiarircela tutta. Quindi io lo infilo tra una notifica e una localizzazione, che in generale mi sento di darti io come utente, però ci metto il permesso di accesso all'address book in mezzo, e questo passa. E questo qui, invece, assume poi i connotati del dark pattern. Allora, per evitare di andare in questa direzione, diciamo che potremmo adottare comunque uno stile più pigro, lazy, nel chiedere queste richieste, e quindi magari chiedere il permesso della camera soltanto quando poi la camera verrà immediatamente utilizzata, il momento dopo, no? Oppure potremmo fare il permission priming, che è un qualcosa di molto carino che si fa nei confronti dell'utente, spesso durante la first time user experience, che è di spiegargli perché io gli sto chiedendo un determinato tipo di permesso, in maniera tale da ottenerlo, effettivamente, quel permesso, ma senza scadere, ripeto, nel dark pattern. Ora, praticamente, qui vediamo Foursquare che lo adotta sia per quanto riguarda la richiesta delle notifiche, sia per quanto riguarda il permesso di localizzazione. E la cosa interessante è che nel far questo, appunto, riesce a spiegarti perché in questa cosa c'è valore anche per te, utente. E quindi, alla fine, il permesso che io otterrò oggettivamente sarà dato, fra virgolette, col cuore, perché ci siamo capiti, serve anche a te, sto per darti un servizio migliore grazie a questi permessi che mi darai. Un altro famosissimo, cioè nel senso che worldwide, questo è veramente il trucco più vecchio del mondo, è quello chiamato, tecnicamente, bait and switch. E sarebbe, praticamente, il fatto di mostrare una cosa illusoria, diciamo, una cosa che ti fa credere che sia una cosa, ma che in realtà ne è un'altra. Nell'ambito mobile, diciamo che abbiamo questo esempio, prima ve lo faccio vedere sul web, perché è la stessa company che lavora sul web e anche poi sul mobile. In questo caso, hotels.com ci mostra un listing di tutti gli hotel in una certa zona, chiaramente la ricerca che ha fatto l'utente, e quello che possiamo notare è che ci sono dei numeri di telefono per ogni hotel, ma questi numeri di telefono sono tutti uguali. e sono anche uguali rispetto al numero che vediamo nell'header. Questo è confortante perché, diciamo, ci fa capire che questo numero di telefono non è il numero di telefono reale degli hotel che sto guardando, ma in realtà è il numero di telefono di hotels.com. E fin qui va bene, anche se non è molto bello mettere questo numero vicino agli indirizzi degli hotel, perché per una persona distratta potrebbe pensare che con quel numero contatta direttamente l'hotel, di fatto. Ora, su mobile, purtroppo, questa cosa prende anche una piega un po' peggiore, perché nel listing degli hotel io il numero non lo vedo, e quindi non capisco che sono tutti i numeri uguali in realtà. Poi vado nel dettaglio dell'hotel, e se vedete bene, il numero è tranquillamente messo sotto l'indirizzo dell'hotel, non c'è una parola di spiegazione. Io non ho nessun elemento per non pensare che quello sia il numero di telefono dell'hotel. E chissà quante persone gli sarà capitato di cliccare pensando di parlare con l'hotel, e poi invece gli rispondeva una cortese operatrice di hotels.com. Sono un po' delle tattiche. Certo, non succede niente di grave qui, ma è per capire il tipo di meccanismo del bait and switch. Assolutamente quella che è stata una piaga, e lo è tuttora, sulle mobile app è quella del friend spam, che è anche conosciuto come group hacking, cioè tutte quelle meccaniche che si mettono in piedi, in sostanza, per andare a fare acquisizione di utenti, in pratica allargare la nostra platea, cercare di crescere con la nostra applicazione, e sfruttando per far questo sia l'address book degli utenti che hanno già scaricato l'applicazione, e sia chiaramente tutti i loro social media, quindi Twitter, Facebook, qualsiasi contatto, qualsiasi network, alla quale possano essere agganciati. Ora, questo viene fatto tipicamente, voglio dire, insistendo sui canali Facebook, sui canali tipo Twitter, all'interno del gaming, no? Siamo tutti abituati, siamo stati abituati ad un certo punto a vedere quelle applicazioni che ci chiedevano l'autorizzazione ad entrare sul nostro profilo Facebook, e poi magari la utilizzavano non soltanto quando io avevo dato l'autorizzazione, ma in pratica si appropriavano di questo permesso, e poi la utilizzavano per postare tutti i punteggi che io potevo fare, magari giocando e risolvendo diversi livelli con l'applicazione. Queste cose stanno un pochino cadendo in disuso, ma ci sono state, ed è difficile valutare veramente il portato di tutte queste attività di growth hacking, che veramente hanno avuto un grosso effetto. però c'è stato uno studio invece americano, fatto in Nord America, su una questione ancora più spinosa alla fine per la privacy. Ci sono state alcune applicazioni, e ci sono tuttora, soprattutto nell'ambito del messaging, infatti vedete incluso in questo grafico anche WhatsApp, Viber, Line, per dirne alcune, che in pratica sfruttavano l'address book per mandare SMS ai propri contatti, con in pratica la pubblicità dell'app. Una cosa, se ci pensate, veramente grave, cioè far partire dal proprio cellulare degli SMS verso la propria rete è un'azione piuttosto intensa, diciamo, di violazione della privacy. Ebbene, soprattutto qui vedete, in pratica l'area e la posizione sta a indicare un po' la gravità di quanto fatto. Glide in pratica è stata l'applicazione meno virtuosa di tutte. In pratica ha accumulato più complaints di tutte le altre, di diversi ordini di grandezza e ha mandato più di 12 volte il numero di inviti per persona rispetto ad un'app virtuosa come WhatsApp. In pratica ha fatto una strage. E lo faceva anche perché all'interno della sua user experience in pratica era difficile disabilitare questa opzione. Cioè ci se ne accorgeva poco, in sostanza, che l'applicazione avrebbe poi fatto questo tipo di cosa. Si chiedeva il permesso, ma poi era un pochino difficile capire cosa avrebbe fatto e cosa no. Ha accumulato un sacco di complaints, però, ecco, ora ritorniamo al discorso che dicevamo prima. Nel breve periodo ha avuto comunque una crescita enorme come applicazione della sua rete e poi cosa ha fatto? Semplicemente queste manovre le ha ritirate, come vi dicevo, il dark pattern di vita breve, però il suo vantaggio di lungo termine, fra virgolette, di aver contattato, di aver acquisito una grossa base utente, intanto se l'era portato a casa. In pratica Glide, adesso, tutto oggi esiste, e ha delle belle recensioni anche, è una virtuosa della seconda ora, potremmo dire. Cioè all'inizio si è avvantaggiata del dark pattern, l'ha sfruttato, poi è tornata indietro, sì, certo, ha avuto un po' di public shaming, però, tutto sommato, le è andata bene, diciamo. E questo è successo a parecchie applicazioni, anche nella sfera, appunto, dello sfruttamento del social media, Facebook, no? Va bene, sappiamo tutti, anche fuori dal mobile, anche Zynga un po' ci ha marciato su questo, no? Poi si diventa virtuosi col tempo, anche quando Facebook restringe un pochino le norme. Quindi questo per dirvi che i dark pattern qualcosa ce la devono far capire. Diciamo che il dark pattern talvolta può essere uno strumento che in una fase di vita, diciamo, particolare, può aiutare a raggiungere determinati obiettivi di business. Un altro tipo di dark pattern è quello della misdirection, in pratica, dove noi facciamo credere, distraiamo l'utente con determinate cose e poi, praticamente, la direzione nella quale lo portiamo è un'altra, di fatto. Un pochino come nel film Prova a prendermi, insomma, c'era la famosa frase del padre di Frank Cabagnale che diceva ma secondo te perché gli Yanke vincono sempre? È perché il team della partita avversaria sta sempre a guardare l'uniforme a righine, viene distratto dall'uniforme a righine e la misdirection è un po' così. Noi mettiamo in campo delle cose che distraggono l'utente e lo portiamo in un'altra direzione senza che nemmeno se ne accorga. E infatti vi faccio vedere un esempio bellissimo praticamente di questo tipo di dark pattern in ambito mobile. In questa applicazione all'inizio first time user experience sempre, che è sempre il momento più critico, in pratica vengono chiesti una serie di autorizzazioni. Le prime autorizzazioni riguardano questo. Va bene, io accedo ai vari social media address, book, anche, poi facebook, poi twitter, vedo che tu hai una serie di amici che fanno parte già dell'applicazione, sono già collegati con questa applicazione, allora io ti chiedo, li vuoi seguire? Questi amici che hai? Bene, così già ti metti in contatto con loro e vedete che c'è lo skip sulla destra. Benissimo. Allora, tipicamente cosa succede? Che uno inizia e comincia a fare skip, 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 skip. ok? Allora, skipiamo fino al quarto passo. Al quarto passo la storia cambia. Al quarto passo non ti chiede più se vuoi seguire gli amici, ma ti chiede se tutti quelli che non erano già inclusi, diciamo, nella magnifica applicazione, se li può contattare tutti bulk proprio, cioè mandare a tutti i messaggi su tutti questi canali che abbiamo visto prima, address book, twitter, facebook, eccetera, però chissà perché lo skip si è spostato invece di stare sulla destra e sulla sinistra e quindi praticamente con questa tattica in pratica sì, bisogna dire che questa applicazione si è portata a casa un sacco anche lei di growth hacking alla fine, l'ha fatto con la misdirection, cioè è talmente furba che non l'ha fatto silentemente come gli altri di prima. Lei, il permesso dall'utente l'ha ottenuto, mica no, soltanto che l'ha ottenuto con questa tattica di invertire lo skip in maniera tale che le persone possessero farlo senza rendersene bene conto. Poi che cosa è successo? Anche lei, public shaming nella forma di review, nella forma di cose del genere e poi vabbè, dopo un poco di tempo roll back ad uno skip in posizione standard, diciamo, però nel frattempo diciamo, un pochino di cose si era portate a casa. Un altro pattern, diciamo, di dark è quello di in qualche modo rendere difficile la comparazione dei prezzi che noi abbiamo nel nostro sito, nella nostra app. Questo fatto qui interviene quando abbiamo dei siti molto complicati laddove una stessa offerta può essere presente da più parti, alla fine noi rendiamo lo schema dei prezzi o il compararli così difficile che alla fine una persona non riesce a prendere il deal più conveniente per sé. Cioè alla fine prenderà qualche cosa, lo pagherà un tot e non necessariamente avrà fatto il miglior affare che poteva. Ora, in questo caso c'è un esempio di un'applicazione che in pratica fa pizza per consegna diciamo, quindi a domicilio, la quale applicazione se navighi la struttura normale del catalogo delle pizze la compri ad un certo prezzo mentre invece e lo puoi tranquillamente portare nel carrello e comprarlo, acquistarlo, finalizzarlo, nessuno ti dice niente, però alla fine se invece ci accedi alla stessa pizza attraverso il tab delle offerte la stessa pizza stesse condizioni stesso tutto la paghi di meno perché è in offerta e ripeto tu puoi finalizzare il tuo acquisto a quell'altro prezzo che a quel punto ci si può chiedere ma se io, ecco, ritorniamo al mondo reale in uno store se io mi avvicino con un prodotto al mio negoziante lui me lo dirà se c'è un'offerta su quel prezzo oppure vedendo che non me ne sono accorto mi farà pagare prezzo pieno. Insomma, è un vero dark pattern una cosa che non accetteremmo nella realtà però, vedete, questo è un esempio in cui io mi sento di dire anche se chiaramente non ho fatto parte del team di questa applicazione che non era intenzionale cioè io sono abbastanza convinta che in questo caso si sia trattato proprio di un errore di progettazione iniziale dell'applicazione magari ingenuo che poi alla fine è sfuggito anche alle maglie del QA quindi vedete che però anche qui alla fine è un dark pattern in pieno su questo non si può avere dubbi un altro un altro dark pattern che si può trovare è quello del roadblock in pratica quando noi stoppiamo un'attività che l'utente sta facendo per portargli davanti un qualche cosa che invece conviene a noi qualche cosa che in qualche modo riveste il nostro interesse ora diciamo il miglior esempio di questo tipo di pattern chiaramente nell'ambito mobile lo danno le pubblicità però dobbiamo sempre fare attenzione non è che ogni pubblicità che ci si para davanti equivale ad un dark pattern può anche essere un'onestissima pubblicità quando è che in effetti una pubblicità diventa dark pattern intanto nel caso dei banner lo diventa quando li posizioniamo molto vicino ai controlli dell'applicazione cioè in effetti l'utente per agire con l'applicazione si troverà molto spesso a cliccare per errore sul banner perché lo abbiamo volutamente messo vicino alle parti interattive fondamentali della nostra applicazione in quel caso diventa misdirection perché in pratica ci stiamo fidando che l'utente in pratica faccia qualche errore di digitazione per sgraffignargli lucrare su di lui quei soldi delle cpm in effetti della nostra pubblicità un altro caso è quello dei native ads quelli che vengono conosciuti come native ads cioè quegli ad che vengono incorporati all'interno della struttura del contenuto come per esempio possiamo osservare molto spesso nelle applicazioni di news dove magari nel listing delle news poi troviamo magari una pubblicità nel bel mezzo ora anche qui non c'è niente di male è ottimo mettere una pubblicità in questo modo anche perché non è bloccante quindi non è roadblock è addirittura migliore però il problema è che si può andare incontro ad un altro tipo di dark pattern che è quello che si chiama misguided ads cioè in pratica sono degli ad che sono travestiti da contenuto per cui alla fine io non mi rendo conto che non è una news o non è un contenuto originale dell'applicazione in effetti ma piuttosto è una pubblicità e quindi lo clicco senza essere consapevole che sarò esposto ad un messaggio pubblicitario quindi questo si può fare e anzi è ottimo ma cercando appunto di essere il più possibile chiare con l'utente che si tratti di una pubblicità per non incorrere nel dark pattern nel caso degli interstitial una cosa che invece talvolta accade e che anche ricade nel pattern un po' della misdirection è che ci sono soprattutto interstitial video ci sono due bottoni quello del reload praticamente del video per rivederlo e quello della chiusura bene talvolta alcune applicazioni un pochino come l'amica di prima che spostava lo skip invertono i due bottoni cioè invertono la X invertono il replay in maniera tale che un po' sfruttando l'abitudine io penso di cliccare sulla X invece mi rivedrò un'altra volta il video pubblicitario generando altro income insomma su questa pubblicità ecco in generale se ce lo si può permettere comunque la realtà è sempre meglio abbracciare i rewarded video sia perché hanno insomma uno schema di pagamento migliore un ECPM migliore ma poi anche perché sono ben tollerati in generale si dimostra che sono più apprezzati perché comunque l'utente ha come dire un reward ha un qualcosa in cambio dalla somministrazione del nostro ad un altro importante pattern in ambito mobile è quello della review manipulation che è realmente interessante perché questo veramente ci dà modo di migliorare un po' le nostre applicazioni questo pattern consiste fondamentalmente nel cercare di orientare le cattive review verso il silenzio cioè lontani comunque dalla nostra pagina dello store e come fanno per far questo le applicazioni innanzitutto facciamo un po' di storia all'inizio nel 2008 ad un certo punto Apple ha avuto l'idea non tanto brillante di introdurre quello che è conosciuto come il review on delete dialogue era un qualcosa di veramente tremendo per chi lo ricorda soprattutto ogni sviluppatore ne era spaventato in pratica Apple inseriva automaticamente questa richiesta di review per l'utente che disinstallava un'app bene però se io sto disinstallando l'app probabilmente non sono nello spirito di darti 5 stelle probabilmente in questo modo si ottengono solo cattive recensioni o comunque certo non recensioni entusiastiche magari la sto disinstallando semplicemente perché non ho più spazio sul disco però comunque non è che sono proprio una pasqua evidentemente una tua applicazione se la sto disinstallando questo fatto generò delle enormi reazioni a catena perché non si poteva aspettare che l'applicazione venisse disinstallata per ottenere la review bisognava ottenerla prima prima che succedesse questo altrimenti si era perduti e allora incominciarono a nascere una serie giustamente di API di SDK che ti aiutavano nel richiedere i momenti più opportuni diciamo la review durante la vita dell'applicazione piuttosto che alla morte dell'applicazione e quindi per esempio SDK di quella natura come Appirator del 2009 che in sostanza era carino ti chiedeva di lasciare la review oppure te l'avrebbe ricordato più tardi di farlo insomma era molto pulito assolutamente onesto però evidentemente questo non bastava visto che si era capito che si poteva orientare al male le review forse le si poteva anche orientare al bene e quindi qualcuno ebbe la geniale idea questo era Appsfire di introdurre nella propria applicazione e lui ne fece un SDK che anche altri potevano integrare una forma praticamente nell'applicazione che sostanzialmente ti chiedeva la recensione ma la recensione nel caso in cui fosse positiva ti veniva poi richiesto di andarla a mettere sullo store con tanto di link immediato per andarlo a fare mentre invece se la recensione non era tanto buona va bene grazie è stato carino basta cioè più che altro silenzio totale sul fatto l'hai data la recensione diciamo punto ci accontentiamo così allora perché questa cosa non è molto bella e la si può definire dark pattern perché l'utente poco esperto pensa che la recensione l'ha data cioè non è che si sta a fare troppi pensieri sul fatto che ha digitato una review che non sarà poi pubblicata sullo store lui pensa che la review l'ha data e voi per pigrizia voi per vera ignoranza non capirà che quella recensione non è stata anche pubblicata sullo store quindi non è molto bella questa cosa è un dark pattern però ci sono state delle evoluzioni interessanti qui vediamo Ember che è un'applicazione che invece faceva qualcosa che non è più dark pattern anche se l'effetto è lo stesso ed è per questo interessante ha evoluto il dark pattern per farlo uscire dall'area nera riportarlo alla luce diciamo perché che cosa fa? non ti chiede non ti dice più lasciami una recensione perché quello era il problema il problema di fargli credere che stesse lasciando una recensione ma ti chiede un mood ok ma tu sei felice sei confuso o sei scontento insomma nei riguardi dell'uso chiaramente dell'applicazione bene se sei felice ti dà una serie di opzioni tra cui c'è quella di andare a scrivere una review sullo store con link diretto se sei confuso magari ti orienta verso il team o verso la guida se sei infelice ti orienta magari direttamente a parlare con il team dei problemi che stai avendo ok ora in questo caso perché è uscito dal dark pattern è uscito dal dark pattern perché non ti sta dando più l'idea che tu la recensione gliela stai dando la stai facendo e la stai pubblicando di fatto ma semplicemente è un orientamento bene sei felice dai dacci una recensione per favore è pulito oppure non sei felice ok insegnaci come migliorare è uscito dall'area nera 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 ed è diventato un pochino più umano un pochino più diciamo colloquiale ti sto parlando a te utente e ti sto chiedendo aiutami a migliorarmi oppure piuttosto incentivami con una recensione e questo è stato portato addirittura poi oltre con diciamo un sistema fantastico che ho spesso fatto adottare nelle app qui c'è circa che uno dei first adopter di questa di questa policy che è quello innanzitutto di non fare una cosa bloccante perché una delle cose fastidiose della richiesta della review per la quale poi alla fine non è efficace è che o gliela mandiamo gliela spariamo fuori come alert quindi bloccante un roadblock rispetto alle attività che l'utente sta cercando di fare oppure piuttosto magari siamo costretti a nasconderla in una pagina di setting quindi poi a quel punto è richiesto uno sforzo attivo da parte dell'utente per andarsela a cercare questa cosa invece con questo metodo cosa succede? Succede che la richiesta di review viene incastrata all'interno del contenuto non è più bloccante ed è sempre di fronte all'utente in un certo modo finché chiaramente non me l'ha lasciata perché possiamo studiarci delle polisi per non farla comparire sempre naturalmente e nel momento in cui noi abbiamo questo noi riusciamo con un semplicissimo dialog che praticamente avviene in place cioè non lascia quella piccola fascia riusciamo a chiedere all'utente se è felice o meno dell'esperienza che sta facendo e quindi nel caso positivo chiedergli di aiutarci dando una recensione sullo store nel caso negativo altrettanto chiede di supportarci diciamo magari dando un feedback più personale al team in maniera tale che si possa agire nella direzione di miglioramento quindi vedete come partire dal dark pattern in questo caso ha consentito di prenderne il buono perché comunque l'effetto funnel c'è noi stiamo comunque riuscendo ad incanalare gli utenti che hanno un pensiero positivo rispetto alla nostra applicazione a darci una review e magari però stiamo anche cercando di raccogliere i feedback negativi per migliorarci oggettivamente ecco quindi alla fine di questo viaggio diciamo attraverso il dark pattern io volevo concludere un pochino dicendo che c'è una sottile differenza tra la sfera dark e la sfera light che è un pochino su come approcciamo il design in pratica noi vogliamo andare in una direzione di persuasione se siamo buoni ma non scadere nella manipolazione e nella coercizione vogliamo cercare di essere trasparenti piuttosto che insomma ingannevoli vogliamo cercare di dichiarire i nostri intenti piuttosto che fregarcene totalmente di quello che l'utente cerca di fare e soprattutto vogliamo cercare di fare nudging che significa in pratica orientare dolcemente l'utente nella direzione che noi abbiamo bisogno che prenda piuttosto che spingercelo con violenza in una maniera che ci darà degli effetti di lungo termine negativi con questo io ho finito vi ringrazio di essere stati con me non so se avete qualche domanda se c'è tempo per domande grazie